Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebimeteo, diamo insieme uno sguardo alla grafica che ci mostra come l'alta pressione continua a lavorare a pieno regime, quindi arrivano queste correnti calde dal Nord Africa che tendono nuovamente a intensificarsi e quindi portano questi valori termici che sono più consoli davvero all'estate che al mese di aprile. Le temperature più alte si raggiungono proprio al sud e sulle isole maggiori Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata arrivano a toccare i 30 gradi, 25-28 gradi al centro soprattutto sul lato tirrenico intorno ai 20-25 gradi al nord e infatti come vedete il settentrione resta meno protetto dall'anticiclone più vicino a questo flusso di perturbazioni che scorrono oltre Alpe e quindi non escudiamo qualche temporale sull'arco alpino principalmente. Per il momento queste sono le informazioni principali per tutte le altre gli aggiornamenti in tempo reale consultate trebimeteo.com oppure scaricate la nostra app.